Grazie a tutti. Io l'ho messo dietro, ma era che ho inventato. Fantastico. No, dopo quando metto la GoPro, dopo lo... Madonna, dai! GoPro? Non mi sono truccata stamattina. Va bene. Eugenio è venuto apprezzato oggi. Tu puoi essere mio figlio? Sei il crusco. Non si può. Non ci vuole un trucco, non ci vuole un trucco, no. Ti devi aggiornare. Non ci vuole un trucco, non ci vuole un trucco. Allora, alle 11.15 massimo, lui si è venuto in qualità. Non ci vuole un主mo. Ok. Musica Musica Ad oggi siamo arrivati a contare più di 200 tipologie, tutte certificate senza l'utina. Musica 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 Musica